Si dice che la notte porti consiglio, ma se questa che sta per arrivare porterà anche un bel po' di neve, come preventivato dal meteo, Fiorenzuola San Giovannese potrebbe essere rinviata. Già stamattina fiocchi abbondanti hanno imbiancato il manto erboso piacentino, si è trattato però solo di pochi centimetri scioltesi con il passare delle ore, trasformando casomai il fondo in un rettangolo molto pesante, senza però rendere a rischio la disputa del match. Tutto qui dipenderà appunto dalla presenza o meno di Burian, che non è, stavolta per chi non lo conoscesse, uno straniero venuto dall'est, ma il vento siberiano è appunto dalle possibili nuove cadute di neve. In ogni caso, verosimilmente sarà domani la giornata decisiva, con la possibilità di evitare quanto accaduto ad Adria la scorsa stagione, con un viaggio inutile anche in quel caso per pochi centimetri. In ogni caso, se la gara fosse giocata, la squalifica di Bini porta allo spostamento al centro della difesa di Nannini, con una maglia da titolare a Papini come esterno basso di sinistra e conseguentemente maggiore spazio ai giocatori più esperti dalla cintola in su, visto che appunto le quote sarebbero completate proprio in quel reparto. Di Santo, Keki e Jukic possono quindi giocare tutti, sempre che appunto non arrivi la neve.